Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD si rifiuta di intitolare un giardino ai caduti di Nassiria. Credo che tutti ricordate quello che è successo. Siamo a Oriolo Romano e lì è un comune gestito dal Partito Democratico. Il PD rifiuta l'intitolazione di un giardino ai caduti italiani di Nassiria, di fronte proprio alla caserma dei Carabinieri, un giardinetto che c'è di fronte, con una giustificazione senza senso. Quello spazio è dedicato ai bambini. Sì, no, nessuna intitolazione ai caduti di Nassiria perché quello spazio è un giardinetto dove ci vanno anche i bambini. Capite che la giustificazione è completamente senza senso, no? Senza senso. E come dire, chiamiamo Piazza Garibaldi? No, no, lì ci passano anche i bambini, eh? Capite, no? Lo chiamiamo Lungomare, non lo so, Mazzini? No, lì ci passano anche i bambini. Cacchio vuol dire? Niente, no? Sembrerebbe quasi anche una presa in giro. Perché un partito demografico, molto demografico, perché il partito democratico dovrebbe rifiutarsi di intitolare una piazzetta di un comune ai caduti di Nassiria? Perché vent'anni fa il contingente italiano Nassiria venne fatto oggetto di un attacco che costò la vita 19 italiani. E' ricordata come una delle peggiori stragi del dopoguerra e a loro sono stati tributati i maggiori onori dal nostro paese, giovani, giovanissimi, meno giovani, morti all'estero per cercare di riportare la pace in un territorio di conflitto. Oltre ai 19 ci furono anche 20 feriti. Molti di quelli scomparsi erano carabinieri, altri soldati dell'esercito, c'erano anche alcuni civili in operazioni tecniche, c'era un cooperante e anche un regista. Numerose vie sono state intitolate a questi eroi della patria, che dovrebbero essere riconosciuti come tali senza alcuna speculazione politico-ideologica e senza tifoserie, perché il livello della politica italiana è sceso così in basso da dividere tutto in tifoserie. E' come se la politica fosse il campionato di calcio di Serie A, dove oggi c'è in vantaggio Fratelli d'Italia e Primo in classifica, come se i sondaggi fossero la classifica delle squadre di calcio. Primo Fratelli d'Italia, Secondo il PD, Terzo il Movimento 5 Stelle, Quarto la Lega, Quinto... E così come se fosse un tifo calcistico, tutto quello che viene proposto da una parte, dall'altra parte si debba dire per forza che fa schifo, schifissimo. E poi si arriva a strumentalizzare anche il caso di quella bambina in Inghilterra. Per la sinistra è giusto quello che dice l'Inghilterra, per la destra invece bisognava portarla in Italia. Cioè si è arrivati a tifare anche su una roba del genere. E addirittura anche sull'intitolazione a un fatto grave, successo il 12 novembre del 2003. Quindi se la destra propone di intitolare una piazzetta, un giardinetto a quello che è successo, no? Perché dall'altra parte la sinistra deve dire no solo perché l'ha proposto la destra? Questo è di un livello infantile, ideologico, sempliciotto da far assolutamente impressione. Cioè giocano come dei bambini dell'asilo su queste cose. Cioè la mia impressione che ai personaggi del PD non interessi nulla caduti o non caduti. A loro interessa dire no a un qualcosa che propone il centrodestra. Voi direte ma che livello di politica è questo? Cioè non è neanche un livello. Eh lo so, lo so. E così da Fratelli d'Italia dicono non ci sono parole per esprimere l'amarezza per questo atto incomprensibile e inaccettabile di fronte al quale il comune ha una sola opzione. chiedere scusa, fare un passo indietro e intitolare una via alle vittime di quella pagina drammatica. Ogni altra considerazione, affermazione o giustificazione è totalmente irrilevante. Eh sì, ha ragione. La giustificazione poi è palesemente ridicola. Secondo me con quella giustificazione, lì ci sono i bambini, volevano proprio prendere in giro il centrodestra, come dire noi comandiamo, voi comandate a Roma, ma qui in municipio comandiamo noi e voi zitti e noi facciamo quello che vogliamo. Anzi, vi diamo anche una giustificazione ridicola per farvi capire che qui comandiamo noi. Questo è. Non credo di essere andato tanto lontano da quella che è la realtà. Secondo la maggioranza, il giardino sarebbe dedicato ai più piccoli, come se non dovessimo insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti l'importanza del sacrificio di chi cade per la patria. È stato proposto anche di aprire un dibattito tra i cittadini rispetto a questa possibilità, dice il deputato di Fratelli d'Italia. Ricordo al sindaco Emanuele Rallo che queste persone indossavano una divisa e portavano una bandiera. La divisa era quella dell'arma dei carabinieri e la bandiera era quella dell'Italia. Si tratta dunque di onorare la memoria di caduti nell'assolvimento del loro dovere. Mettere in discussione questo è davvero vergognoso. Ma qui c'è un qualcos'altro anche. Non c'è solo la tifoseria calcistica. Qui c'è anche quello che io vi ho sempre dimostrato nei video. Dimostrato. C'è anche anti-italianità. Questo lo abbiamo... Quanti video, quante decine di video vi ho fatto dove vi raccontavo e vi commentavo della anti-italianità che c'è a sinistra. Poi non parliamo di... Quando si parla di divise, eh. Non parliamo poi delle divise. Questo fastidio che hanno a sinistra per i carabinieri, le forze armate. Perché nella mente dei sinistri, divisa, forze armate, fascisti. Avete capito, no? No? C'era anche quella scrittrice scomparsa che aveva paura delle divise. Quando lei vedeva uno in divisa aveva paura. e dice, ma come stai messa? Aveva paura. Paura. Io quando vedo qualcuno in divisa mi sento più sicuro. In Italia. In Italia, eh. Specifichiamo. Quando uno vede una divisa si sente più sicuro. No? Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.